Noi vogliamo vincere e questo ci interessa, l'unico pensiero fisso degli allenamenti di questa settimana è stata quella di voler vincere questa partita, ovvio, ma noi tutte le parite le vogliamo vincere, chi è che non vuole vincere? Siamo mica qua per perdere, io vi dico solo che noi ci alleniamo ogni settimana con la voglia di vincere, sempre, sappiamo anche noi che dobbiamo far punti, sappiamo che vogliamo vincere e non che dobbiamo, io dico non dobbiamo perché un dipendente deve, uno che fa parte di un progetto vuole e questo noi lo vogliamo fortemente. Io spero che non sempre ritroveremo le quattro squadre o le tre più il Napoli aggiungo che stanno massacrando il campionato e credo altrettanto che il Crotone abbia fatto non solo ottima figura ma sia abbia secondo me raggiunto una credibilità sul piano di come si affrontano tutte le partite a livello nazionale, tutti sanno che a giocare il Crotone o col Crotone o contro il Crotone non è una cosa facile, è chiaro che se si parla di quelle squadre una differenza c'è, nelle altre noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, abbiamo vinto delle partite contro le nostre dirette concorrenti e domani è una partita che secondo me deve essere solo, deve avere solo un grande entusiasmo da poter essere giocata perché ci dà la possibilità, è chiaro che se poi l'Empoli dovesse vincere le partite ciò che fai tu conta poco ma in ogni caso noi dobbiamo pensare solo a noi e quindi cercare di far nostra questa partita. Ma io mi aspetto un Crotone che sia leggero, sia entusiasta, sia propositivo che attacchi in 10 e difende in 10 perché l'osare va sempre di pari passo con l'equilibrio e poi mi aspetto un Cagliari che venga qui con i suoi valori perché lo dimostrano i giocatori nella rosa, gli dimostrano i gol realizzati e anche quelli subiti quindi ci sarà spazio secondo me se entrambe le squadre lo vogliono di creare una partita secondo me molto molto interessante. Domani noi vogliamo fare nostra questa partita e quindi l'aggressività sarà fondamentale sia quando saremo bassi sia quando saremo alti. È bello vedere la nostra gente nonostante il fatto che poi sia stato un allenamento del giovedì e quindi nelle partite del giovedì si arriva già da carichi di lavoro magari del martedì e del mercoledì. Io credo che la presenza della gente essendo questo uno sport dove ci si gasa proprio perché la gente ti viene a vedere ti dà sempre quel qualcosa in più oltre alla vicinanza oltre al fatto che loro possano vedere come si preparano le partite, come ci si allena per poter pensare e giustificare quello che vi ho appena detto cioè la voglia di voler vincere.